dopo la caduta in disgrazia dall'io al non io a cura di vb da quell'incontro era passato un anno che pesava come piombo sulle spalle di egle dopo la caduta in disgrazia nel suo lavoro scesse dal pullman e si avviò verso il piccolo paese dove era nata in romania era un pugno di case intorno ad un crocicchio con una sola bottega e un caffè la bottega vendeva generi alimentari e il robusto vino locale egle superò il crocicchio e proseguì a passo spedito abbracciò una vecchia seduta sulla porta di casa e una coppia di anziani che le erano andati incontro era domenica e superstiti abitanti del paese passeggiavano lungo la via che lo tagliava in due arrivò alla casetta isolata dove era nata tirò un catenaccio ed entrò nell'oscurità di una cucina rimasta immobile con un grande tavolo di massello quattro sedia schienale diritto e una credenza alle pareti tappezzate con tralci di fiori non c'erano quadri solo una stampa della madonna in una cornice dorata grosse travi di legno sostenevano il soffitto basso egle chiamò ad alta voce ma non le rispose nessuno uscì dalla porta sul retro e vide la zia che rientrava in casa con un piatto di fragole tardive sorpresa disse se appena la zia si accorse di lei si baciarono colme di affetto la donna si sedette accanto alla stufa in grembo aveva il piatto di fragole che esibiva come un premio osservava egle che la guardava le ho raccolte oggi e se ne trovano ancora disse se sorrideva la zia era ancora una donna piacente ma come le altre donne rimaste in paese non si curava del proprio aspetto se non per apparire pulita i capelli grigi con la riga in mezzo erano raccolti in una crocchia sulla nuca si rabbugliò quando disse vasile sta molto male chi mio cugino chiese egle non distinguendo tra i molti vasile del paese si disse alla zia e si mise a piangere la zia adesso giudicava la vita troppo seria per sorridere ma con il nipote vasile era diversa con lui aveva sempre sorriso non aveva avuto figli egle si avvicinò alla zia con un sospiro dove ce l'ha chiese e senza attendere la risposta vasile un cancro ai polmoni è vero disse la zia sentì puoi fargli qualcosa chiese la zia la donna aveva opinioni fermissime su pochi argomenti e uno di questi era l'importanza che attribuiva alla ricerca spirituale cui la nipote era interessata da sempre l'unica cosa che posso fare pregare di segle prima però devo vedere vasile e ho bisogno di una sua fotografia la zia non chiese il perché della fotografia capirlo sarebbe stato troppo difficile per lei passò nell'altra stanza dove erano un divano letto un cassettone e una poltroncina aveva da poco imbiancato i muri e cucito allegre tendine per la finestra sul cassettone c'erano alcune fotografie della famiglia prese tre foto di vasile e continuò a piangere egre scelse la foto in cui il cugino appariva in primo piano e il suo visto si vedeva bene a lungo ne osservò la fisiognomica e ancora così chiese no si è molto dimagrito rispose la zia hai una foto più recente no ormai vasile non esce più e non pensa certo alle foto egre pensò al suo di aspetto andò allo specchio sopra il cassettone e osservò francamente il suo viso non le era mai piaciuto l'ovale era irregolare e la pelle grassa si vedeva molto comune si allontanò dal cassettone e ancora fu certo che il suo viso non aveva niente di speciale tranne l'espressione mistica spirituale che denunciava la qualità del suo intimo ma oltre all'espressione il suo corpo fisico non aveva niente di attraente e forse per questo era caduta in disgrazia nel suo lavoro ne aveva ancora dolore diede un ultimo occhiato allo specchio e si disse con forza però posso aiutare gli altri a guarire poi andò con la zia a visitare il cugino vasile diisso di questo il cugino di questo di questo è Grazie a tutti.